Siamo pronti? Mi conosciti pronti? Tutti in posizione, prevec! Sigari! Sono detto al fuoco che promenerà a mettere la linea giusta. Siamo pronti? Siamo pronti! Ci sono planini, non potete impiare, salzati mezzo panino e mettiti in mano. L'importante è che se vi atti mezzo panino, vieni sempre mezzo panino in mano. Quindi uno stozzo con piasciena e uno con piasciati. Sertanto, 70 panini c'è da mangiare per tutti. Sembra che stiamo buccati con l'altro. Sei fame! Sertanto, c'è da mangiare per tutti. però c'è il vino di scena e il vino da bere Grazie Grazie ancora, veramente, grazie, capisco che è un po' di conto, capisco, veramente, grazie. Stacchi, attentamente, e mi guarda, è molto bello sul tanto. Allora, tanto, ma che finiamo tutti i totari, non bisogna più ballare a Stozzi, fai più. Stoio, entra! No, perché qua, dico, c'è sta faccia. No, perché qua, dico, c'è sta faccia. Allora, vai in, vai in, vai in, come ti siena, vai in, come ti siena. No, perché qua, dico, c'è sta faccia. 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 No, perché qua, dico. No, perché qua, dico, c'è sta faccia.